A Breganze, garage e scantinati allagati sono stati pochi, ma un grosso danno si è verificato su una pista ciclabile di 250 metri, costruita appena una decina di anni fa. Abbiamo chiuso la pista ciclabile, ma il danno poteva essere molto più rilevante, nel senso che abbiamo rischiato di allagare tutto il centro di Breganze. Il problema della piazza del centro di Breganze è strutturale, essendo più bassi rispetto al corso d'acqua e ricevendo l'acqua anche dall'area collinare. Anche il municipio, in caso di pioggia, è sempre protetto dai sacchi di sabbia e altri erano pronti per costruire una diga su via 5 Martiri in caso di esondazione del chiavone, la cui forza ha sventrato parte del muro di cinta lungo la ciclabile verso piazza degli Autieri. Come potete vedere il chiavone bianco ha eroso parte di quello che è l'argine, abbiamo rischiato l'erosione completa dell'argine e la fuoriscita dell'acqua che avrebbe invaso in prima battuta, quindi sono gli interati, qua ci sono circa un centinaio di garage e poi sarebbe fuito tutto verso il centro cittadino con un rilevantissimo problema. Per sistemare l'argine ci vorranno diversi mesi, essendo coinvolto il consorzio di bonifica Brenta, il genio civile, oltre al comune. Non è ancora quantificato il danno, ma il sindaco ha già annunciato che chiederà un finanziamento alla regione.